Allora è un peccato che non sempre i nostri ospiti si incontrino perché c'è chi lancia delle accuse, solleva delle polemiche e chi poi a volte non c'è e dunque non può replicare. Movimento 5 Stelle è chiamato in causa da tutte le questioni sollevate dall'onorevole Scalfarotto poco fa del Partito Democratico e allora tutte queste questioni con l'aiuto del nostro Marco Di Fonso in studio con noi le rigiriamo all'onorevole Maria Edera Spadoni, vicepresidente della Camera. La ringraziamo per aver accettato il nostro invito e le rigiro sul vassoio d'argento quanto detto dall'onorevole Scalfarotto in tema di immobilismo con un Parlamento di fatto fermo, con un decreto dignità di fatto fermo al quale manca ancora una firma e con tutta una questione legata all'economia, tecniche, con un DEF di cui a settembre bisognerà occuparsi, questioni sulle quali non si parla. Ma guarda immobilismo non credo proprio, in questi giorni in aula c'è stato sia il decreto sul Tribunale di Bari, la proposta di legge per istituire la Commissione Antimafia, ovviamente noi stiamo portando avanti un ufficio di presidenza ai vitalizi e il decreto dignità comunque è già stato calendarizzato per fine luglio e c'è già stato l'ok del Consiglio dei Ministri. Quindi parlare di immobilismo mi sembra abbastanza non corrispondente alla verità, sicuramente una cosa molto importante sarà questo decreto sul famoso decreto dignità che finalmente riuscirà in un qualche modo a contrastare il precariato che purtroppo è una piaga sociale nel nostro paese. Accennava ad alcuni provvedimenti di cui ci stiamo occupando ormai da giorni se non settimane, in particolare quello dei vitalizi, salvo colpi di scena domani dovrebbe avere via libera dell'ufficio di presidenza della Camera. Sappiamo però che dalla Lega qualche dubbio è arrivato sul testo della proposta fatta dal Presidente Fico, vi sentite tranquilli, arriverà questo via libera, si rinvierà di un po'? Il via libera arriverà, credo proprio di sì, domani c'è l'ufficio di presidenza che deciderà in cui ci sarà la votazione finale, sono state presentate delle proposte emendative che verranno vagliate. Una cosa è certa, sicuramente è una delibera che verrà portata avanti, che è stata portata avanti dal Movimento 5 Stelle, una battaglia storica nostra, ricordo che ci sono i vitalizi, insomma ci sono molte pensi, diciamo vitalizi che sono molto alti per un totale di anni lavorati del parlamentare che invece è un totale molto basso e ripeto, questa è una lotta che noi portiamo avanti e che sicuramente porteremo a casa. Senza aspettare il Senato che invece si è preso un po' più di riflessione, non temete che questo possa contribuire poi a magari bloccare in sede di ricorso questo provvedimento? No, bloccarlo no perché comunque un conto è il Senato, un conto è la Camera, la Camera domani approverà la delibera sui vitalizi per quanto riguarda ovviamente i vitalizi dei parlamentari alla Camera, se può il Senato fare degli approfondimenti e facoltà chiaramente del Senato e della Presidente Casellati farlo. Noi intanto andiamo avanti. Onorevole, lo sblocco del caso della nave della Guardia Costiera 18, che dovrebbe approdare peraltro in serata alle 20 a Trapani, è passato quest'oggi attraverso dichiarazioni in parte distanti del Viminale e del Ministero dei Trasporti e poi è anche intervenuto il Ministro della Difesa 30 e lo stesso Di Maio, che ha detto che è impensabile chiudere i porti italiani alle navi italiane, lo aveva detto Salvini, di fatto bloccando l'attracco della Diciotti. Tutte queste dichiarazioni contrastanti l'una rispetto all'altra, che cosa ci dicono? La Ministra 30, se non sbaglio, ha comunque parlato di un chiarimento con Salvini, quindi da questo punto di vista una cosa è certa, il Governo è compatto e la linea è sempre stata una, cioè quella del ripristino della legalità. La tratta di esseri umani non è più proponibile, né permettere che ci siano delle morti in mare, ma neanche che ci sia una tratta di questo tipo. Noi abbiamo proposto delle cose. Primo la revisione di Dublino, perché ovviamente non è possibile che chi approda in Italia l'iter di verifica per capire se effettivamente ha diritto a rimanere, deve passare dall'Italia. Secondo corridoi umanitari, cioè chi ha diritto ad arrivare non deve arrivare attraverso un barcone e rischiando la vita. Terzo, ovviamente un serio coinvolgimento dell'Unione Europea. E io le dico la verità, se Salvini, diciamo l'azione di Salvini attraverso quella chiusura, che non ha comportato un rischio né per i passeggeri e neanche per i migranti che erano a bordo delle navi, specifichiamo questo, in un qualche modo ha permesso di creare un cortocircuito in Europa e finalmente far partire un dialogo e una discussione su questo, bene ben venga, perché noi siamo rimasti completamente isolati dall'Europa che diceva, tanto ci pensano gli italiani, anche con degli accordi, devo dire, abbastanza deleteri per noi che sono stati fatti dai governi precedenti, l'Europa si deve prendere la responsabilità, perché una cosa è certa, quando i migranti arrivano in un porto italiano, non deve essere un porto italiano, non arrivano in Italia, ma arrivano in Europa. Marco, scusami, solo perché c'è una notizia dell'ultima ora, magari di Di Maio, che dice la Lega è disponibile a tagliare i vitalizi, a proposito della tua domanda prima, noi ci aspettiamo che i vitalizi vengano aboliti sul serio senza annaquare i conti, l'obiettivo è tagliare il 99, 100% dei soldi che vanno giustamente agli ex parlamentari e su questo la Lega mi ha dato tutta la disponibilità a votare il taglio dei vitalizi. E quindi insomma conferma che domani dovrebbe essere la giornata buona almeno per la Lega. Sì, anche perché c'è stata comunque una buona collaborazione con la Lega in questi mesi, in cui appunto abbiamo, insomma, è stato portato avanti l'iter della delibera, quindi che venga confermato non mi stupisce. È un po', diciamo, come tema, come bandiera quello che è il tema dell'immigrazione per Salvini, cioè lui si è preso un po' questo tema anche da spendere in termini di consenso elettorale, mediatico, e voi state cercando di rilanciare, ad esempio sul tema dei vitalizi, si può un po' leggere così? Se cercare di rilanciare vuol dire portare avanti un programma e portare avanti quello che c'è scritto nel contratto di governo, sì. Cioè noi semplicemente stiamo portando avanti delle battaglie che sono le nostre battaglie. Battaglia sui vitalizi, ne abbiamo sempre parlato. La battaglia, la lotta al precariato, ne abbiamo sempre parlato. La lotta, per esempio, alle lobby del gioco d'azzardo, cioè questo c'è nel decreto dignità. Togliamo la pubblicità, eliminiamo la pubblicità e le sponsorizzazioni al gioco d'azzardo. Il gioco d'azzardo è veramente una questione molto pesante nella società italiana. E c'è anche da dire una cosa, tutti i miliardi che vengono spesi nel gioco d'azzardo o sono miliardi che non vengono investiti o comunque non vengono spesi nell'economia italiana. Quindi il gioco d'azzardo sostanzialmente porta in negativo l'economia italiana. E questo è un fatto, lo dicono i dati. Ma ci può essere la stessa concordia che sembra profilarsi sul taglio dei vitalizi, secondo lei sul decreto dignità può esserci con la Lega, perché Salvini dalla Lega continuano a ripetere che alcune cose andranno cambiate. Peraltro il testo non l'abbiamo ancora, quindi bisogna capire prima il testo da poi si parte. Stasera dovrebbe essere pubblicato. Ad esempio rispetto ad alcuni irrigidimenti del mercato del lavoro, che chiaramente voi vedete in termini di protezione dei lavoratori più deboli, la Lega che magari ha un elettorato anche più forte tra le imprese del Nord, vede da un altro punto di vista. Su questo crede che poi si arriverà a una mediazione, ci saranno delle modifiche sostanziali al decreto? Ma guarda, bisogna partire da un presupposto. Secondo me questo lo sanno anche gli imprenditori. Una società precaria non consuma. E questo è il punto da cui bisogna partire. Quindi dare delle tutele aiuta anche gli imprenditori che decidono di entrare nel mercato italiano e che hanno comunque dei consumatori che hanno la possibilità di fare dei figli, hanno la possibilità di prendere un mutuo, hanno la possibilità di comprarsi una macchina nuova. Quindi cercare di tutelare il lavoratore non vuol dire essere contro l'imprenditore. Poi c'è anche da dire una cosa, ci sono comunque dei punti importanti, come per esempio la revisione del redditometro, l'abolizione dello spesometro, oppure l'abolizione dello split payment per le partite IVA. Questi sono punti che comunque piacciono molto agli imprenditori. Poi, come è stato detto anche nei giorni scorsi, se ci saranno dei miglioramenti al testo che in un qualche modo però non portino al precariato o anacquino il testo, su questa cosa non saremo d'accordo. Perché è una lotta che viene fatta dal Movimento 5 Stelle proprio per riuscire anche a incentivare i consumatori, incentivare l'economia italiana. Grazie all'On. Maria Edera Spadoni, Vice Presidente della Camera, Movimento 5 Stelle per essere stata con noi.